Il 25 aprile ci saranno i cortei, e i partigiani, e i contropartigiani, e i fascisti, e i comunisti, e i rossi, e i neri, e i verdi, e i blu, e i gialli, e i rossi. Siamo nel 2019, mi interessa poco il derby fascisti-comunisti, mi interessa il futuro. In che senso? Lei ha conosciuto il fascismo quindi, no? L'ho conosciuto fino a 18 anni. Siamo a 18 anni. Oggi assistiamo all'aumento, in Italia e in Europa, di movimenti politici di estrema destra, che dietro la maschera del sovranismo spesso nascondono il volto pericoloso del nazionalismo e del razzismo. Dobbiamo preoccuparci, secondo lei? Io sono preoccupato, vede, sento spesso in televisione, eminenti giornalisti o pseudostorici, che dicono, voi state abusando oggi della parola fascismo, perché non c'è un fascismo, non c'è una dittatura, ma il fascismo, certo, in Italia si è manifestato sotto forma di una dittatura, ma il fascismo è un virus mutante, cioè a dire può anche non essere una dittatura, ma essere una mentalità fascista. E io non posso trattenermi dal dire che oggi, col governo di oggi, abbiamo un esempio lampante di mentalità fascista, che è quella del ministro Salvini, quella, chiamatela come volete, ma è in mentalità fascista. Eletto democraticamente? Ecco, una delle forme del fascismo può essere quella di essere eletta democraticamente. Infatti, molti italiani rimbiancono il fascismo, si sono dimenticati, in virtù della loro scarsa memoria, c'è stato qualcuno, non ricordo chi che ha detto, certo, il fascismo ha fatto tante belle cose, ma nel 38 erano già avvenute alcune piccole cosine, cioè come il bavaglio alla stampa, la censura sui libri da leggere, l'impossibilità di esprimere un pensiero personale, l'identificazione totale col capo, l'assassinio Matteotti, la morte non in carcere, ma è stata come se lo fosse di Gramsci, le persone mandate a Vendotene, le persone arrestate per antifascismo, tutte queste cose sono state dimenticate, dimenticate. L'italiano, io sono italiano, quindi lo dico per i miei fratelli, l'italiano ha memoria solo per due cose, Sanremo e la formazione di calcio che so della Juventus nel 1930, per il resto ha una labilità di memoria che fa spavento. E quindi il 25 aprile, che è la nascita dell'Italia democratica, la nostra Costituzione si ispira a ciò che venne a significare il 25 aprile, non fu una rissa tra comunisti e fascisti. Come dice Salvini. Come dice Salvini, perché da questa parte non bisogna dimenticare, certo, che c'erano le brigate e i ribaldi comuniste, ma c'erano i partigiani monarchici, c'erano i partigiani repubblicani, democristiani, c'erano i partigiani democristiani, ma Dio mio, c'era l'Italia e tu me la vieni a ridurre a una rissa, ma dicendo una parola così, una frase così, questo ignorante offende e io mi sento a 93 anni fremere di rabbia perché offende i caduti di tutte e due le parti, perché i fascisti che andarono giovani a morire credevano in un ideale sbagliato, orrendo, ma ci credevano e i comunisti da quest'altra parte, i monarchici e tutti gli altri, i democristiani, i socialisti credevano in un loro ideale. Salvini non sa neanche il senso della parola ideale. Io pensavo che dopo 2000 anni qualche cosa fosse cambiato, basta un nulla. Come si fa a dire che uno difende le coste italiane da 67 individui, 12 bambini, 14 donne e uomini più morti che vivi per quello che hanno patito, ma come si fa? Ma non si ha il senso del ridicolo. Secondo lei i giovani hanno consapevolezza del tempo che stiamo vivendo? Non lo so. Io però vorrei che nelle scuole invece di abolire lo studio della storia si incrementasse perché qualcuno a questi giovani qualche cosa ne deve pur spiegare. Io ti dico le cose come sono accadute e tu poi giudichi da te. Ma prima te le devo dire, le devi conoscere. Invece c'è un'ignoranza abissale al riguardo. Non so quanto voluta, ma c'è. Come possono avere la consapevolezza? I più i più vogliosi di consapevolezza vengono da me come sono venuti. Non hai idea quanti giovani vengono da me a dirmi professore lei che l'ho conosciuto ce lo spiega cos'è il fascismo? Perché a noi a scuola non ce lo dicono. Ma vi rendete conto dell'enormità di questo? Cioè viene tacciuto un periodo fondamentale e cruciale per la storia d'Italia. Ci ha pensato al fatto che oggi il commissario Montalbano avrebbe come capo il ministro Salvini? Sedda. Quando ci fu il G8 a Genova con tutto quello che successe Montalbano in un romanzo Giro di Boa meditò di dimettersi dalla polizia. Oggi come oggi ai limiti di età raggiunti se ne andrebbe si dimetterebbe con molto dolore molto ma credo che non potrebbe convivere. Lui non ha fatto il partigiano ma credo che una tessera gli si potrebbe dare di partigiano. Una tessera dell'Ampi? Dell'Ampi che io mi onoro di aver avuto così come ho avuto la bandiera dell'Ampi.